Antani, come se fosse Antani, anche per il direttore, la supercazzola con scappellamento. Io sono uomo d'affari, vende la supercazzola prematurata, una cosa da segni, terapia tapioca, terapia, terapia, dollari, sterline, laccia, scarpa, scarpa, laccia, ricordo, albergo. Terapia tapioca, come se fosse Antani, la supercazzola prematurata, condominus, vis, cum, bling. Terapia sulla supercazzola con scappellamento a destra o a sinistra? Col terapia tapioca, come se fosse Antani, la barella, anche per due, con lo scappellamento a sinistra. No, mi permetta, no, io, scusi, noi siamo in quattro, come se fosse Antani anche per lei, soltanto in due, oppure in quattro anche scrivai come falina, come antifurto, per esempio. No, basta ne soppaltati, secondo l'articolo 12, abbia pazienza, se no, posterdati per due, anche un pochino Antani, prefettura. Senza contare che la supercazzola prematurata, ha perso i contatti col terapia tapioca.